Febo è arrivato lo stop del RUP al progetto Maltauro, dunque ancora novità, lei aveva parlato di questo più volte, a questo punto qual è il suo pensiero? Io credo che dopo questo ulteriore stop, che è la Regione stessa che si è data a se stessa, una relazione fatta dall'ingegnere Primavera, il RUP della Regione, di nove pagine di criticità, credo che bisogna fermarsi, l'ospedale di Chieti ha necessità sicuramente di interventi, ma interventi solamente sulla parte interessata dal cemento impoverito, con uno sforzo economico completamente diverso rispetto a questo che si vuole prospettare, quindi dove c'è la forza economica anche di dare risposte, dobbiamo cominciare a ragionare su questo, abbiamo perso oramai più di tre anni per correre dietro a questo capriccio d'Alfonsiano, e corriamo il rischio di non vedere assegnata la città di Chieti, l'ospedale di Chieti, il dia di secondo livello, come il Ministero ci sta dicendo, io credo che i due nosocomi, quello di Chieti e quello di Pescara, insieme si completano, insieme hanno quei servizi da dare ai cittadini che possono far funzionare veramente ad altissimo livello i due ospedali, e invece qui si sta cercando di eliminare, di sottrarre risorse sull'ospedale di Chieti per poi puntare tutto su Pescara e magari scippare anche la facoltà di medicina. Da un lato c'è questa richiesta forte che proviene da Pescara, dove si sa che comunque loro non hanno tutti i requisiti, dall'altro si sta indebolendo la città di Chieti e il nosocomio di Chieti, è questo che sto cercando di imbedire, che sono tre anni, sto cercando di far capire, spero che adesso ci sia la volta buona e arriviamo veramente a superare oramai un campanile che non è più degno del terzo millennio, perché i due ospedali hanno tutti i requisiti, uno alla volta non ce l'ha. Grazie. Grazie.